Sicuramente è una cosa scontata, un bel concerto, molto bello, ho apprezzato soprattutto la capacità interpretativa, c'è quindi la loro sensibilità che gli permette di passare da un repertorio all'altro, anche molto distanti, come parimenti al concerto dell'altra volta, in cui c'era nel programma Shostakovich Haydn, e anche stasera abbiamo questa capacità di passare dal 700 al Shostakovich, che è una delle figure più complesse del 900.